Salve a tutti e bentornati a Tra le Righe. Questa volta vi presento un albo illustrato dell'autrice Anna Iena. L'abbiamo già incontrata in una delle puntate dell'anno scorso. È un'autrice spagnola e in quel caso vi ho presentato Il colore delle emozioni. Questa invece è la volta del gioiello dentro di me. È un libro che parla agli adulti. Emerge in questo libro la consapevolezza chiara dell'autrice del fatto che si rivolge molto spesso proprio appunto agli adulti e da loro degli strumenti per parlare con i bambini che sono l'oggetto della loro cura. Questo libro parla dell'essenza, parla dell'essenza di noi, della nostra interiorità, di quel motore che abbiamo fin dalla nascita e che ci spinge a sperimentare, a crescere, ad amarci. È proprio la storia della nascita dell'individuo con la propria essenza, del suo crescere, del suo smarrirsi per poi ritrovarsi. Le parole che Anna Iena usa sono parole come autovalore, autostima, comprendete bene che queste non sono parole per dei bambini di 5 anni, però le immagini ci supportano e tante volte i nostri piccoli si trovano davanti a dei dilemmi. Non bisogna pensare di sottovalutare un amico che non è proprio colui che ci ama particolarmente, ci capita loro di scegliere magari un migliore amico che ha dei gusti completamente diversi dai loro, che comincia a mettere in discussione magari il loro colore preferito, magari il loro colore preferito è il rosa e quello dell'amico è il blu e quindi loro sono spinti a rinnegare il loro colore preferito per piacere all'amico. Questi passaggi che sembrano anche banali in realtà per loro portano a delle piccole sofferenze, sono disposti a chiederci di cambiare tutto l'armadio magari per questo motivo oppure improvvisamente non si vogliono più mettere le scarpe da ginnastica perché la loro migliore amica magari indossa solo ballerine e noi sappiamo che loro magari le nostre figlie sono delle comodone e non vorrebbero mai mettersi le ballerine, improvvisamente diventano delle piccole star. Allora questo libro ci porta ad aiutarli a capire come in alcuni momenti prendere le distanze da se stessi porta a delle sofferenze e come lo fa? Non certo attraverso i termini, i termini come dicevo sono rivolti a noi adulti ma invece piuttosto attraverso le immagini. Gli albo illustrati di Anna Iena sono sempre bellissimi, vi porto subito al momento, allora velocemente il bambino nasce, è nella pancia della mamma addirittura e ha già fin da subito il suo gioiello interiore, collocato bello nel centro del corpo, è quello che lo porta a creare, a cercare, a giocare e poi però si arriva a un tratto in cui questo gioiello non è più interessante per quelli che circondano il nostro bambino, che ne prendono le distanze, questi ipotetici migliori amici che cominciano a buttare degli strati sopra al gioiello che poi viene nascosto e come si fa a spiegarlo? Ecco qua, Anna Iena ci propone due immagini in trasparenza, due pagine in trasparenza che coprono ma lasciano sempre intravedere la bambina triste dietro, proponendolo ai miei bambini di 5 anni, cosa succede? Loro subito la vanno a carezzare col ditino, come dire povera povera, è rimasta nascosta perché si sente sbagliata, perché si sente cattiva, perché non merita più di essere amata e quindi è nascosta, prende talmente le distanze da se stessa che a un tratto poi quando si guarda allo specchio cosa succede? Derubata dal suo gioiello interiore, può essere il colore preferito, i gusti, ecco non si vede più, non vede più se stessa, se è persa, questa è un'immagine che loro capiscono molto bene, non si vedono, non si riconoscono, cosa succede se nello specchio non vedo più quello che sono abituata a vedere, una bambina vestita di rosa o un bambino che ama magari il karate e invece il miglior amico lo vuole portare a calcio per esempio, sono piccoli drammi ma non sono così piccoli poi, cosa succede? Ci disconnettiamo, tac, da noi stessi, dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, dai nostri desideri, dai nostri bisogni, dal nostro intuito, dalla nostra essenza, salvo poi incontrare un contesto favorevole di frequentazioni, di esperienze che ci riporti di nuovo a entrare in contatto con noi stessi, con la nostra essenza, con quello che è il nostro fuoco interiore che ci spinge avanti, che ci fa sentire speciali, che ci fa sentire amati, che ci fa sentire invincibili. Chiedevo loro quando è che vi sentite invincibili? Io a danza, io a inglese, laddove esprimono maggiormente le loro competenze. Questo è un tema che parte da Platone, attraversa tutta la storia anche della filosofia per arrivare a Hillman, uno dei più importanti allievi di Jung. È di questo che parliamo con questi bimbi. Quindi questo qui è un libro che può stare nella nostra libreria da quando loro hanno cinque anni fino a quando poi magari saranno adolescenti e di nuovo ci troveremo a trattare questi temi così difficili con loro in maniera molto più importante. È una lettura che probabilmente non accompagnerà la sera prima di dormire come invece tante altre che vi ho proposto, ma magari accompagnerà il cammino della vostra vita e della crescita dei vostri figli insieme a voi. Grazie e alla prossima. Contra le righe. Grazie.